Cominciamo dal titolo che ovviamente è un titolo volutamente provocatorio, non preoccupatevi, da domani non cominciamo a bruciare i libri di analisi tecnica e non buttiamo via tutto quello che abbiamo imparato in questi anni, ma ho voluto intitolare il webinar l'analisi tecnica non basta più per un motivo molto semplice, che stiamo vivendo un periodo dei tempi in cui accadono cose a livello mondiale, eventi straordinari, a velocità anche piuttosto sostenuta, ci sono cambiamenti continui e io credo che se noi continuiamo a tenere solo la testa bassa sul grafico per cercare di andare a trovare l'uncino di Ross piuttosto che la media mobile o la divergenza tra lo stocastico e l'RSI senza preoccuparci di che cosa ci sta girando intorno, rischiamo seriamente di ritrovarci una bella mattina in mezzo alla strada in mutande senza nemmeno renderci conto, capire che cosa c'è arrivato addosso. Quindi già nel webinar precedente di dicembre avevamo cominciato a parlare di questi argomenti e oggi vado avanti e inizio con, dal momento che le mie preoccupazioni personali potrebbero anche non interessarvi una cosa giusta, comincio con alcune preoccupazioni espresse da un un imprenditore, un grosso imprenditore italiano che ha attività ancora molte anche in Italia e diverse attività all'estero che alla fine di novembre esprimeva alcuni concetti di questo tipo qua, eccolo qui, Tronchetti Provera, Tronchetti Provera, sole 24 ore, dice attenzione perché con la crisi energetica in Europa non abbiamo rischio sia l'UEF che la democrazia. C'è, qui c'è qualcosa che tocca ragazzi, perché non vanno avanti le slide? Vabbè. Che cosa dice Tronchetti Provera? Se l'Europa perde la sua competitività economica mette a rischio il suo modello di welfare, ma la storia ci insegna che questo spesso significa mettere a rischio la democrazia. Il primo problema ovviamente è quello delle bollette dell'energia che stanno facendo perdere competitività a tutte le aziende europee rispetto agli altri competitor internazionali. Ormai è emergenza, è questione di settimane, diceva a fine novembre, stiamo perdendo contratti, contratti commesse e quant'altro. Se non c'è un'immediata reazione alla crisi energetica, se non predisponiamo tutti gli strumenti per evitare future tensioni, butteremo via quel che in Europa si è costruito negli ultimi decenni. E' oggettivo che siamo in concorrenza con gli altri player globali. Questa è una crisi asimmetrica però, non sono stati colpiti né gli Stati Uniti né l'Asia, è stata colpita prevalentemente l'Europa. Ovviamente dobbiamo continuare a condividere con i nostri storici alleati i valori comuni occidentali, ma, dice Tronchetti Provera, lo dobbiamo fare in modo pragmatico, non c'è niente di scandaloso nel tutelare i propri interessi economici. Scandaloso semmai è non farlo. Quindi, invece di andare sempre a pecora, nei confronti degli Stati Uniti, bisognerebbe cominciare a farsi rispettare un po' di più. La priorità è la difesa degli interessi, perché solo questa difesa consente di mantenere la continuità della democrazia. Dice anche che l'arrivo della crisi ha bloccato il percorso virtuoso. Noi siamo una regione prevalentemente che trasforma, abbiamo poche materie prime. Oggi noi pensiamo all'energia, ma dobbiamo essere consapevoli che il problema in realtà si pone anche per un sacco di altre cose, per il nickel, per le terre rare, per il litio, per tutte le componenti essenziali alla transizione digitale ed ecologica del continente. Quindi o impariamo la lezione e cominciamo a prepararci, o altrimenti saranno dolori. Ancora. Il ruolo di amministratore non mi è piaciuto molto. Vabbè, devo andare avanti così. Conclude l'intervista al Sole 24 ore dicendo Torno sui rischi del nostro modello di vita. L'Uelfare europeo è un modello per tutto il mondo, ma se va in crisi, va in crisi la democrazia. Se il disagio sociale supera un certo limite, come la storia insegna, c'è il rischio che prevalgano movimenti che nulla hanno a che fare con la sofferta democrazia europea nata nel secolo scorso. Le sofferenze del Novecento ci hanno permesso di costruire l'Europa nella quale viviamo. La domanda conclusiva è, siete sicuri che vogliamo buttare via tutto? E io, sull'onda di queste dichiarazioni di Tronchetti Provera, aggiungo qualche considerazione mia. Non so se vi siete resi conto che siamo appena usciti dalla pandemia, abbiamo appena ripreso a respirare senza le mascherine e già ci stanno bombardando e ci stanno dicendo che le nostre case così come sono non vanno bene, che le nostre auto così come sono non vanno bene, che il nostro cibo non va bene, che il nostro vino fa male, che bisogna andare a farina di grilli e bistecche sintetiche. Quindi ci voglio dire, adesso io capisco tutto, però se cominciamo a metterla sul peccatore, pentitevi, la fine del mondo è vicina, qua non ne usciamo. Quindi siamo in un mondo che sta facendo una serie di cambiamenti a 360 gradi. Io con l'aggeggio qua, a finire che lo uccido. Quindi il webinar di oggi va a riprendere gli argomenti che già avevamo iniziato nel webinar di dicembre, chi se lo forse perso lo può trovare sul canale di Lombard Report, Scartabello un po' c'è tutto, dove avevamo parlato della guerra finanziaria in atto e prosegue con la guerra energetica che deriva dalla guerra finanziaria come conseguenza, come reazione degli Stati Uniti e dell'altra guerra di cui ancora parlano poco i media, ogni tanto sentite parlare di Taiwan ma nessuno vi sta spiegando in realtà che problemi ci sono, e in realtà è la guerra che sta venendo avanti, che è la guerra del silicio. Dulcis in fundo, non abbiamo ovviamente cure miracolose, però abbiamo semplicemente rispolverato qualche sano vecchio consiglio della nonna per cercare di ridurre nel limite del possibile le disgrazie che ci arrivano ad osso. Quindi cominciamo dalla guerra finanziaria, la guerra finanziaria si traduce in sostanza con la fine del petrodollaro, di questo avevamo parlato ampiamente la volta scorsa, adesso ovviamente non starò a riprendere tutto il discorso, solo giusto per riagganciarmi ai discorsi della volta scorsa, ricordo che avevamo tracciato la storia del dollaro dagli accordi di Bretton Wood 1944, pochi mesi prima della fine del conflitto mondiale, da questi accordi vengono fuori una serie di intese, viene definito una tabella di cambi fissi tra il dollaro e le altre valute dei paesi che partecipano all'accordo, viene fissato un prezzo fisso per l'oro a 35 dollari l'oncia, i paesi sottoscrittori si impegnano ad utilizzare il dollaro come moneta per gli scambi internazionali, quindi il che vuol dire dare al dollaro un vantaggio non indifferente, perché se io ho bisogno di comprare frumento, petrolio o qualsiasi altra cosa, prima devo procurarmi la riserva di dollari necessaria, in cambio di questo la Federal Reserve a suo tempo, nelle cori di Bretton Wood si impegnava a garantire la convertibilità del dollaro in oro al prezzo fisso appunto di 35 dollari l'oncia. Questa manfrina qui va avanti per 17-18 anni più o meno, fino ai primi anni 60, dal 44 fino ai primi anni 60, dopodiché negli anni 60 succedono un po' di cose, innanzitutto succede che le principali economie europee e nonché l'economia giapponese, una volta che cominciano a riprendersi dagli effetti devastanti della guerra, cominciano ad essere economie che pompano e cominciamo a diventare paesi esportatori a nostra volta, ma diventando paesi esportatori non facciamo altro che alimentare il fabbisogno di dollari, perché per gli accordi di Bretton Wood è evidente che si va in quella direzione. Contemporaneamente, nello stesso periodo, gli Stati Uniti vanno a infoniarsi nella famosa guerra del Vietnam, guerra che sarà sanguinosissima non solo dal punto di vista delle perdite umane, ma sarà una guerra estremamente dolorosa anche dal punto di vista finanziario, perché si dimostrerà essere una vera e propria idrovora di dollari per gli Stati Uniti. Aggiungete a questo che in quegli anni anche l'economia stessa interna degli Stati Uniti si sta un po' surriscaldando, i costi interni stanno salendo, quindi cosa succede? Succede che a un certo punto la Federal Reserve non ce la fa più a mantenere gli impegni che si era assunta, cioè c'è un forse nato bisogno di dollari, dollari, dollari e la Federal Reserve non riesce più a coprire la stampa di questi dollari con altrettante riserve aure. Quindi gli accordi di Bretton Wood cominciano a scricchiolare. subito non succede niente, ma nel giro di 6-7 anni la gente comincia a capire quello che sta succedendo e infatti alla fine degli anni 60 la Francia e la Svizzera vanno a bussare alla porta della Federal Reserve con i loro scatoloni pieni di dollari e dicono adesso questi qua te li riprendi tu e mi dai il corrispettivo in oro. a questi due paesi ne seguono ovviamente altri perché poi la voce si sparge quindi arriviamo al 71 quando l'amministrazione americana a un bel momento è costretta a gettare la maschera quindi abbiamo il famoso discorso di Nixon 15 agosto 1971 che va in televisione sventolando il suo bigliettino da un dollaro dicendo che vi piace o no da domani l'oro è questo qua se vi piace, se vi sta bene è così se non vi sta bene è così lo stesso quindi vi comunico che da domani finisce il regime dei cambi fissi quindi si torna in un regime di cambi fluttuanti e la Federal Reserve non convertirà assolutamente più dollari in oro come ho detto la volta scorsa ce ne sarebbe stato abbastanza per scatenare la terza guerra mondiale ma siccome ne era appena finita una e gli Stati Uniti erano belli grandi e grossi andare a fare botte con uno che è molto più grande e grosso di tutto non è mai molto igienico diciamo che la gente con gli altri Stati con qualche mugugno si allineano e tirano avanti non senza ripercussioni perché in realtà poi dopo questo annuncio il dollaro comincia a perdere credibilità tutta randa di fatti passano meno di 18 mesi e vediamo che l'oro che a quel punto il prezzo dell'oro si era sganciato da 35 dollari l'oncia il prezzo dell'oro sale di botta a 70 dollari l'oncia quindi praticamente equivale a dire che il potere di acquisto del dollaro in un anno e mezzo si è dimezzato a questo punto l'amministrazione americana si rende conto che se continua questo smarocco del dollaro finisce male anche per l'economia interna degli Stati Uniti che fino a quel momento di riff o di raffa volenti o nolenti avevano vissuto al di sopra avevano potuto vivere al di sopra delle loro possibilità mi ricordo Giscard d'Estaing il francese che quando si parlava del dollaro lui parlava sempre di esorbitante privilegio non privilegio esorbitante privilegio perché era un vantaggio mica da ridere quindi a questo punto nel 72 l'amministrazione americana fa una mossa disperata però a volte le mosse disperate funzionano quindi fa due conti vede che la materia prima più scambiata al mondo in quegli anni è il petrolio perché tutti i paesi che sono usciti dalla guerra e stanno creando sviluppo a tutta rada hanno bisogno forse nato di petrolio quindi l'amministrazione americana dice se riesco a convincere i maggiori paesi produttori di petrolio a farsi pagare il petrolio in dollari probabilmente riesco a rimettere il dollaro in careggiata e a fargli riprendere un ruolo di valuta guida e così accade quindi Nixon va in Arabia mette intorno al tavolo tutti i paesi lì del Golfo, del Medio Oriente i principali produttori di petrolio e gli fa un discorsino che più o meno suonava così dice voi vi state arricchendo state vendendo un sacco di petrolio tutto bene però avete messo in conto che domani mattina ci potrebbe essere un qualche stato malintenzionato che viene qua a invadervi per impossessarsi dei vostri pozzi di petrolio delle vostre ricchezze punto di domanda questi si guardano in faccia dopodiché Nixon butta la proposta sul tavolo e dice se voi accettaste di imporre ai vostri clienti il pagamento del petrolio in dollari io in cambio di questo favore visto che ho qualche problema a rimettere in careggiata il dollaro potrei a garantirvi tutti gli armamenti più moderni necessari per la vostra difesa ma vi dico di più se mi lasciate mettere giù qualche base qua in casa vostra poi io ci metto dentro i miei soldati americani e io sono in grado di garantirvi la protezione militare degli Stati Uniti per tutti i vostri pozzi di petrolio e per tutte le vostre ricchezze all'osservazione dice cosa ce ne faremo poi di tutti questi dollari che ci piovono in casa prontamente Nixon dice quelli che non sapete dove mettere noi abbiamo dei bellissimi titoli di Stato che sono ritenuti i più sicuri al mondo che fruttano su cose cedole vi do il permesso fin da ora potete comprarvi tutti i titoli di Stato del tesoro americano che volete e garantirvi così un ulteriore guadagno un extra profitto oltre quello ottenuto dalla vendita del petrolio concluso quindi questo accordo va in porto ed è qui in questo modo che nasce il famoso petrodollaro il nome proprio fatto apposta per sottolineare l'intimo legame tra la materia prima e la valuta statunitense dopodiché si va avanti passano gli anni arriva qualche crisi finanziaria quello che avevamo detto anche la volta scorsa ma è bene ribadirlo ogni volta che un paese stampa moneta a go go il primo effetto che ottiene è quello di generare inflazione solo che se a farlo è un paese che ha una valuta sua che circola solo all'interno di casa sua l'inflazione che genera se la ciuccia tutta lui ma nel caso del dollaro essendo valuta di riserva che serve a tutti gli altri paesi che devono scambiarsi delle merci succede che gli Stati Uniti stampano cartaccia generano inflazione ma solo una minima parte di quell'inflazione si riversa all'interno dell'economia americana mentre il grosso di questa inflazione viene esportata sul gruppone sulle spalle degli altri paesi adesso per dire siamo arrivati a inflazione a due cifre l'anno scorso ora voi capite che un'inflazione al 10% in un paese come l'Italia la Francia la Germania ha un certo tipo di impatto tutto sommato ancora ragionevole contenibile nel momento in cui andiamo a dare un 10% di inflazione a paesi emergenti o peggio ancora a paesi poveri del terzo mondo dove ci sono persone che campano con redditi annui di 200-250 dollari giù di lì capite bene che se li ammolliamo addosso anche un 10% di inflazione facciamo prima sparargli soffrono di meno cioè diventa una cosa insostenibile e infatti poco alla volta succede e accade esattamente questo un attimo che controllo la scaletta che non stia andando fuori allora andiamo alla prossima slide succede appunto questo fatto qui che già nel 98 ci sono le prime crisi finanziarie e dopodiché arriva il buco la crisi del 2008 con la crisi del 2008 la Federal Reserve pompa giù dollari dall'elicottero come se non ci fosse un domani e quindi i paesi emergenti e i paesi più deboli cominciano giustamente a preoccuparsi perché dice qua se non è oggi è domani prima o poi ci piove addosso un cataclisma e dopodiché arriviamo alla guerra in Ucraina la guerra in Ucraina è come la ciliegina sulla torta perché a quel punto lì cioè noi furbissimi no dice adesso aspetta che mettiamo nelle varie sanzioni nei vari pacchetti che abbiamo fatto di sanzioni blocchiamo anche tutti i conti esteri della Russia quindi la Russia viene a trovarsi in una situazione in cui pur avendo i soldi per pagare i suoi debiti non può farlo perché i conti sono stati congelati vabbè una situazione un po' strana però questi paesi più deboli che però stupidi non sono dicono cavolo se si sono permessi di fare questo alla Russia che è armata fino ai denti qui una bella mattina possono farlo tranquillamente anche a noi quello scherzetto lì ci svegliamo una mattina abbiamo tutti i conti bloccati e andiamo a ramengo e quindi che cosa succede succede l'impensabile quello che gli americani esattamente il contrario di quello che volevano gli americani cioè gli americani spingevano per mettere la Russia alle corde in realtà Putin non ha mai avuto tanti amici come l'anno scorso e adesso vediamo una serie di carrellate paesi che non si parlavano da decenni che pian piano si aggregano e cominciano a dire qua bisogna uscire dal sistema del dollaro e entrare in un sistema multipolare con una valuta nuova che sia una valuta vera non una moneta fiat basata sul nulla sul signoraggio e basta quindi in pratica noi oggi assistiamo a una guerra finanziaria di tutti questi paesi che si stanno coalizzando per andare a formare una valuta multipolare sostenuta da beni reali materie prime oro in primis ma non solo oro se c'è un paese che ha poco oro ma ha tanto gaso tanto petrolio metteranno nel paniere quello però vogliono una moneta che sia sganciata dal dollaro che ormai è diventato carta straccia questo un po' in sintesi quello che è successo e stava accadendo tra l'altro questa cosa qui era stata ampiamente prevista dalla corrente dei neorealisti leggi Kissinger e Rockefeller che ormai non c'è più è morto David Rockefeller ma gli americani diciamo quando si parla di politica estera gli americani non hanno mai avuto due visioni diverse una di destra una di sinistra la politica estera degli Stati Uniti è sempre stata a senso unico si fa come diciamo noi punto a capo cos'è che cambia cambia il modo di raggiungere l'obiettivo mentre i neoconservatori quelli che adesso hanno spinto Biden alla presidenza sono dei robusti ragazzotti texani stile cowboy tanti muscoli poco cervello che vanno spacchiamo adesso sistemiamo Putin e poi dopo andiamo a sistemare anche la Cina cosa diceva Kissinger ancora qualche anno fa attenzione dobbiamo distinguere qual è il nostro vero nemico il nostro vero nemico non è tanto Putin è la Cina quindi stiamo attenti a pestare troppi piedi alla Russia perché se pestiamo troppi piedi alla Russia il rischio concreto è che la Russia si butti nelle braccia della Cina e guarda caso cos'è successo in questo anno esattamente quello che Kissinger non voleva che succedesse quindi arriviamo ai giorni nostri l'anno scorso siamo il 22 marzo la guerra è appena iniziata da un mese e tanto per dire l'approccio pragmatico dei cinesi Xi Jinping dice aspettiamo che vuoi che Putin facciano per Putin le cose si mettano male io non posso restare senza petrolio va a trovare gli arabi vediamo se il link qua funziona o non funziona eccolo qua arabi saudite cina studiano come usare l'OIwan nella vendita di petrolio è già qui vedi gli americani con gli occhi rossi iniettati di sangue la novità avrebbe conseguenze notevoli per il mondo del petrolio globale che da sempre usa la valuta statunitense come moneta ufficiale sarebbe l'alleanza tra il maggiore importatore di petrolio la Cina con il più grande esportatore l'Arabia Saudita con il conseguente passaggio di dai petrodollari ai petro yuan ecco questo tanto per dire andiamo avanti arriviamo a giugno dell'anno scorso quindi tempo dopo due mesi una mossa deflagrante l'Iran chiede di entrare nei BRICS Putin incontra Raiz cioè se volevano mettere Putin in un angolo isolato dal resto del mondo Putin non ha mai avuto tanti amici e tanti appoggi come si è visto in quest'anno qui una mossa deflagrante l'Iran chiede di entrare anche l'Argentina si candida ma è soprattutto l'ingresso di terra a minacciare di scatenare una serie di reazioni a catena in Medio Oriente perché mai l'adesione a un consesso permanentemente economico diventa una scelta di campo politico sull'ordine mondiale e andiamo avanti qui adesso io avrei un contributino di un filmatino video se riesco a tornare a aprire e andare dove è qui filmato 2 dura poco un paio di minuti nelle ultime ore i principali organi di informazione occidentale hanno rilanciato la notizia di un presunto default della Russia la Russia è in default sul debito estero per la prima volta da oltre un secolo la Russia è ufficialmente in default secondo Moody's sono alcuni dei titoli apparsi sulla stampa mainstream italiana ci si aspetterebbe quindi di vedere la Russia in ginocchio e Vladimir Putin pronto ad abbandonare la nave e invece non è così perché la Russia ha i soldi per pagare i 100 milioni di interessi su due obbligazioni estere ma è impossibilitata saldare per i divieti di pagamenti imposti con le sanzioni è il primo caso in cui si dichiara insolvente un paese che ha le risorse per onorare i debiti ma queste non vengono accettate la storia del possibile default russo annunciato in occidente va avanti in realtà da mesi come testimoniano alcuni articoli del marzo scorso e si tratta così di pura propaganda occidentale in tempo di guerra in realtà la salute economica di Mosca sembra tutt'altro che compromessa e lo dimostrano le ultime iniziative intraprese in ambito diplomatico prendiamo per esempio il gruppo dei BRICS si tratta di un'alleanza internazionale di paesi che raggruppa il Brasile la Russia l'India la Cina e Sudafrica bene nonostante la guerra le relazioni politiche e commerciali tra questi paesi sembrano rafforzarsi di giorno in giorno come testimoniato dall'ultima riunione la Russia ha infatti proposto la creazione di una valuta di riserva internazionale basata sul paniere valutario dei BRICS che cosa significa? non si tratta della creazione di una nuova moneta comune fisicamente circolante tra i paesi ma dell'intenzione di sostituire il dollaro come valuta di riserva di riferimento con gli accordi di Bretton Woods del 1944 si impose a tutti i paesi di accettare il dollaro come moneta obbligatoria di riferimento per le transazioni internazionali ed allora il dollaro è detenuto in quantità molto significative dalla maggior parte dei governi e delle istituzioni finanziarie mondiali ed è diventato così valuta di riserva principale bene l'iniziativa russa vuole scalzare questa egemonia monetaria dobbiamo ricordare che il BRICS nacquero proprio con l'intento costitutivo di fronteggiare di arginare diciamo l'ostra potere del dollaro verso economie quali appunto quelle dei paesi del BRICS costrette troppo spesso ad inseguire questo dollaro con dei rischi anche di fallimento che hanno caratterizzato spesso paesi come Sud America ma anche paesi come l'Asia in inclusa la Russia la proposta che è sul tavolo è quella della Russia di creare un caro easy unit quindi una unità di scambio come era l'EQ prima dell'Euro quindi non una vera moneta ma un'unità contabile che purtattavia diventa molto importante perché consentirebbe di fatto alle banche centrali di questi paesi di non detenere per forza dollari ma di fatto di detenere un paniere delle valute di tutti gli altri paesi che appartengono a questo gruppo al momento si tratta di una proposta sul tavolo che dovrà essere valutata dagli altri membri del BRICS ma la sensazione è che questo gruppo possa sempre più rappresentare un'alternativa al blocco occidentale negli ultimi giorni infatti sono arrivate le richieste formali di ingresso nei BRICS da parte di Argentina e Iran il presidente del paese sudamericano Alberto Fernandez ha infatti così dichiarato siamo onorati dell'invito a questo incontro allargato dei BRICS aspiriamo ad essere membri a pieno titolo di questo gruppo di nazioni che già rappresenta il 42% della popolazione mondiale e il 24% del PIL oltre a... deve riattivare il microfono pronto sentite adesso? Sì ok vediamo se riesco eh no tiro giù è sparito? eh no aspetta che proviamo a fare come prima ok adesso sì sì l'unica cosa che io ho sempre in mezzo alle scatole con lo schermo qui che vabbè eh vi devo tornare di nuovo all'inizio eravamo arrivati qua mh dicevo passano meno di tre settimane e sorpresa altri tre Turchia Arabia Saudita ed Egitto presentano domande di adesione ai BRICS e dai andiamo a vedere i titoli perlomeno a livello di titoli sussidiario BRICS si allargano Turchia Arabia Saudita presentano domande di adesione importanti novità prossimo summit per la discussione di 5 paesi la conferma è arrivata presidente del forum andiamo ancora avanti arriviamo ad agosto dell'anno scorso ecco che l'Algeria il gruppo BRICS interessa all'Algeria vorrebbe diventare membro del gruppo dell'economia emergenti del quale fanno parte Russia e Cina l'Algeria vuole entrare il gruppo dell'economia emergenti lo ha detto la televisione il gruppo BRICS interessa bla 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 dato che si tratta di una potenza economica politica eccetera eccetera andiamo avanti passano 20 giorni perché qui le decisioni sono un po' più veloci di noi e l'Algeria fa domanda ufficiale di entrare del BRICS l'Algeria apre le trattative conflitto ucraino e l'opposizione americana alla soluzione di Pechino su Taiwan un paese due sistemi riprende il modello di Hong Kong eccetera eccetera quindi morale tra l'altro tra l'altro io adesso se non mi ricordo male l'Algeria non dovrebbe essere dopo che hanno bombardato il gasdotto non dovrebbe essere lei il nostro principale fornitore di gas metano se questi vanno nei BRICS non so vabbè 20 ottobre 20 ottobre Arabia Saudita nei BRICS la mossa di Bin Salman gela gli USA cambia tutto e vai i rapporti con Raid sono sempre stati il pilastro della politica americana in Medio Oriente ora però è rottura tra Biden e la monarchia del Golfo rottura USA Arabia Saudita Bin Salman pensa all'ingresso dei BRICS con Russia e Cina e via che se ne aggiunge un altro andiamo ancora avanti siamo a novembre a novembre ufficiale l'Algeria ha ufficialmente presentato domanda per entrare a far parte dei BRICS quindi detto fatto nel giro di pochi mesi hanno preso la decisione e fatto le loro mosse siamo al 7 di dicembre e Xi Jinping atterra in Arabia Saudita sbarcha in Medio Oriente Xi Jinping arriva in Arabia Saudita per rinsaldare le relazioni con i paesi del Golfo presidente cinese con più di 30 leader della regione preoccupazione da preoccupazione a Washington ma con gli USA sempre più lontani in Medio Oriente non disdegna la corte di Pechino e vai con l'Ishio Cina Arabia Saudita sempre più vicini cioè capite che sono temi che passano molto sopra le nostre teste ma arriviamo al 22 marzo e il 22 marzo abbiamo la firma del mega accordo gasdotto che dalla Siberia porterà il gas direttamente in Cina insieme a tutta una serie di infrastrutture che i cinesi realizzeranno insieme a Putin per fortuna che volevamo giolarlo Putin ma qua 50 miliardi di metri cubi di gas passeranno per i 2600 chilometri di rete che collegherà la Siberia all'Oxinyang ovviamente io vi faccio vedere i titoli dopo poi se volete approfondire avete il link andate poi a cercarveli qua c'è un contributo un nuovo contributo video vediamo se riesco a farlo partire se mi incasino anche stavolta accordo Russia e Cina eccolo qua qui come sempre e come sempre Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a 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 tutti.